Meme Economics, nuova puntata, vi raccontiamo l'economia, la politica, la finanza attraverso il linguaggio dei meme, noi in realtà cerchiamo di raccontarvi l'economia e la finanza attraverso analisi e approfondimenti una volta a settimana, però cerchiamo anche di strapparvi un sorriso dove possibile, per partire con quello che sta accadendo proprio in questi giorni sui mercati finanziari, l'aumento dei contagi in tutto il mondo e un'elezione americana che avanza, beh insomma abbiamo dei mercati in profondo rosso, in particolare il DAX di Francoforte che come vedete partiamo subito con un pollice giù, non stonks, not stonks, DAX traino dei mercati dell'Unione Europea, questo è quello che si dice spesso, beh insomma dal 23 al 28 ottobre meno 11%, decisamente non stonks e in generale tutti gli asset stanno andando giù, non è che ce n'è uno che si salva, anche il dollaro che in qualche modo si sta riapprezzando dato che tutto il resto va giù perché il cash, il vero bene rifugio in questo momento, beh insomma anche il dollaro non è che lo stia facendo in maniera così energico, lo fa con timidezza, eccezione di un solo asset, questo sì e si tratta della valuta digitale, adesso vediamo il prossimo meme con l'aiuto della regia, ecco qua l'analista che aveva previsto il bitcoin unico asset solido a ridosso delle azioni americane, beh talmente impossibile da prevedere che ci venga a pensare come Morpheus in The Matrix e cioè è l'eletto colui il quale appunto aveva avuto questa previsione, bitcoin che sta prendendo il posto dell'oro, ha superato i 13 mila punti e in questo senso l'oro non si comporta come si sarebbe comportato prima del periodo covid e cioè se i mercati vanno giù l'oro va su, in questo senso quando aveva raggiunto i 2.100 dollari launch, gli analisti lo vedete avevano predetto 2.400 dollari launch entro il 2020, solo che poi a ottobre abbiamo visto che l'oro ha raggiunto i 1.880 anche i 1.860 dollari launch, allora gli operatori sull'oro fanno l'espressione di uno di questi, di questo personaggio che diciamo che è entrato dentro i meme più virali e leggendari se vogliamo che girano appunto per il web. Sono i mercati azionari da guardare con attenzione soprattutto in questo periodo perché lo abbiamo detto in apertura, ci sono le elezioni americane imminenti e spesso in questo senso si dice se i mercati vanno giù occhio che il presidente eletto, il presidente in carica potrebbe rischiare qualcosa, se invece vanno su potrebbe essere confermato alla Casa Bianca e allora guardate qui perché Wall Street sta precipitando, se Wall Street precipita prima delle elezioni Biden potrebbe vincere, questo è quello che si sta dicendo in questi giorni, il Nasdaq ha perso l'8% negli ultimi 15 giorni di ottobre e il Nasdaq se facciamo in modo che viene interpretato da questa scimmietta, altro meme molto virale sul web, capisce che forse in qualche modo si sta parlando proprio di lui, del Nasdaq e che sta forse cercando di dirci qualcosa, dato che sta perdendo terreno e dato che appunto se Wall Street perde allora forse potrebbe vincere il presidente candidato avversario, insomma l'outsider contro il presidente che invece è ancora in carica alla Casa Bianca. A proposito di elezioni, si parla in questo periodo molto dell'ultimo film di Borat, o meglio di Sacha Baron Cohen, Borat 2, il secondo capitolo di un film per molti demenziale ma che racconta con molta ironia l'America. E allora guardate qui, il riassunto, se magari non aveste il tempo di poterlo guardare, beh insomma perché si sono beccati anche su Twitter Trump e l'attore Sacha Baron Cohen, verme da una parte, no buffone dall'altra, perché la sostanza è questa, sembra non esserci nessun segno di vita intelligente qui, questa è la spiegazione di Sacha Baron Cohen attraverso Borat 2 sugli americani che votano Donald Trump. Segni di vita intelligente pochi, ci si aspettava misure intelligenti, quantomeno pratiche, dall'ultimo DPCM che è stato diffuso da Giuseppe Conte e poi insomma in Gazzetta Ufficiale per quanto riguarda le misure restrittive di questo nuovo lockdown che di fatto sta appesantendo così tanto i mercati. Beh insomma per molti non è che sia stato così intelligenti diciamo così questi provvedimenti. A partire da questa situazione gli sport vanno avanti, gli sport di squadra di contatto ma a porte chiuse, quindi no a questa situazione qui in cui i tifosi in qualche modo si distribuivano in maniera giusta insomma tenendo le distanze, il distanziamento sociale, si invece alle mischie in aria ad esempio. Qui ovviamente ci sembra di percepire un pericolo decisamente maggiore di contagio, infatti nel calcio si stanno generando diversi piccoli ma importanti focolai. Il timore peraltro è che tra un DPCM e l'altro non si capisca più niente, anzi il timore è che ne venga uno dopo l'altro e quindi insomma c'è il timore che la situazione si aggravi e quindi un DPCM tira l'altro. In questo senso ci viene in aiuto un vecchio film, vecchio per modo di dire, comunque ben oltre gli anni 2000, il Diavolo Veste Prada. Questa è una scena per i cultori del film topica e cioè il direttore della rivista Mary Streep che dice mi serve il nuovo DPCM per le gemelle che sono le sue figlie. Anne Hathaway nella parte della stagista dice ok vado subito a prendere la gazzetta ufficiale perché alla fine di DPCM si parla sei caduta e hai battuto la testa sul pavimento e ce le abbiamo già quelli pubblicati, le gemelle vogliono sapere quale sarà pubblicato dopo. In riferimento nel film si parla invece di Harry Potter. Mary Streep chiede ad Anne Hathaway di avere il nuovo libro di Harry Potter e Anne Hathaway dice va bene vado in libreria e Anne Hathaway chiedo scusa, Mary Streep dice no no io voglio il manoscritto che ancora deve essere pubblicato ma che è già stato scritto dalla scrittrice e a quel punto poi come si vedrà nel film è nata o in qualche modo riesce a risalire a quel manoscritto. Intanto che cosa prevede il DPCM? Beh chiusura ovviamente, lockdown vuol dire chiusura per molte attività commerciali in particolare cinema e teatro e in questo caso citiamo nuovamente perché l'abbiamo già fatto sette giorni fa The Vision che è un portale di approfondimento ma anche di tipo politico non solo nazionale e sembra una battuta ma in realtà ci sembra più una sorta di riflessione amara insomma una freddura amara. Adesso lo vediamo con l'aiuto della regia il prossimo meme che appunto si riferisce a The Vision insomma questo l'abbiamo già guardato appunto che si tratta di Il Diavolo Veste Prada vediamo se arriva in aiuto il prossimo meme con un po' di calma e anche con un po' di suspense finalmente ce l'abbiamo. Teatri e cinema chiusi le chiese aperte perché la cultura in Italia non muoia ci toccherà pregare già perché teatri e cinema chiudono i ristoranti chiudono ma le messe le celebrazioni religiose vengono lasciate libere insomma di svolgimento e da qui c'è questa piccola freddura che arriva da The Vision. C'è chi però vorrebbe vedere chiudere tutto sostanzialmente si tratta di Vincenzo De Luca per citarne uno come personaggio politico e quindi personaggio pubblico governatore della Campania già la febbraio si era espresso in questa direzione tant'è che e qui abbiamo preso in prestito il meme di TML i ragazzi con questo Luca hanno il 120 per cento di probabilità di chiudere tutto proprio perché De Luca vuole inequivocabilmente e inesorabilmente chiudere tutto baracca e burattini e intervenire anche con energia con forza quasi a richiamare metodi cinesi per chi dovesse appunto andare a infrangere il lockdown. Per chiudere sul lockdown in generale più o meno mirato vale per tutti i paesi europei, molti paesi europei in linea di massima stanno affrontando delle quarantene, dei lockdown mirati e parlano al popolo i governatori in qualche modo per cercare di spiegare la situazione, per cercare di far capire che il contagio c'è e che bisogna di nuovo sacrificare le proprie entrate, anche il proprio lavoro in determinati casi quando si blocca tutto. Lo ha fatto anche la regina Elisabetta per quanto riguarda il Regno Unito, però c'è qualcuno che effettivamente ha fatto notare questa cosa, quando stai parlando della povertà con un pianoforte dorato alle spalle, c'è anche un albero di Natale, probabilmente è un'immagine di archivio ma la sostanza è questa, insomma, ci ha strappato un sorriso e ve l'abbiamo mostrato anche a voi che ci seguite, a voi che seguite Memeconomics. Grazie per averci seguito, speriamo di avervi fatto divertire in qualche modo l'appuntamento e con la prossima puntata.